Da quanti anni studi l'organetto? Da tre anni. Benissimo, chi è il tuo maestro? Giuliano D'Alessandro. Benissimo, vogliamo andare con il primo pezzo? Il primo pezzo che ci proponi, se non sbaglio, è proprio Spazzacamino. Sei pronta? Nel mentre che Gianfranco lo facciamo sempre arrabbiare, ci facciamo fare un applauso di benvenuta? Benissimo. Digi dalla Moicina! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.